Martedì 29 agosto 2023, amici, è tutto vero, Romelu Lukaku è sbarcato un'oretta fa a Ciampino e si appresta insomma a raggiungere Villa Stewart per sostenere le visite mediche, molto probabilmente in serata per l'ora di cena verrà dato il comunicato ufficiale, quindi grande colpo della Roma, grande colpo dei Fritkin, finalmente la Roma ha di nuovo un attaccante di peso, scusate quello che doveva avere con Ebram ma lo ha ancora di più con Romelu Lukaku, sicuramente un attaccante importante che ha vestito maglie importanti e dunque giustificatissimo l'entusiasmo dei tifosi della Roma che come al solito, insomma io penso anche dall'esterno facciano venire voglia proprio di vivere il calcio ragazzi perché si può essere di qualsiasi fede ma vedere 5.000 persone fuori a un aeroporto e non so quante migliaia di persone hanno tracciato il volo dalle due e mezza in poi da Londra passando per Bruxelles per poi arrivare a Roma, poi io ero in macchina e anch'io logicamente mi sono lasciato trasportare da questo entusiasmo, ho seguito via radio gli ultimi minuti prima dell'atterraggio e nel frattempo ero sotto il diluvio universale e l'aereo praticamente era sopra di me qui, zona giustignana, zona Roma Nord e quindi ha dovuto fare insomma un po' di deviazioni quindi ha tardato altri 10 minuti proprio perché ha beccato un temporale gigantesco invece quando è arrivato a Ciampino addirittura c'era il sole quindi pensate che differenza ci può essere tra Roma Nord e Roma Sud quasi, Ciampino è più o meno Roma Sud però dai siamo contenti, arriva un grande giocatore, dovrà ritrovare logicamente la condizione e non fa un allenamento serio dall'ultimo che ha fatto con l'Inter quindi dalla finale di Champions League al Chelsea ha vissuto insomma questa esperienza fuori rosa ha rifiutato la rabbia e questo per un giocatore tanto chiacchierato a livello di soldi di tra virgolette era il mio sogno da bambino comunque Lukaku ha deciso di rimanere in gioco, di rimanere in Europa e ha voluto fortissimamente l'Italia molto probabilmente per ragioni di cuore e anche di abitudine credo che lui volesse tornare all'Inter ma sicuramente qualcosa sia a livello societario che qualche magari dubbio a questo punto sia di Lukaku ma credo anche di Simone Inzaghi e sul loro coesistere perché credo che l'anno scorso sia stata la testimonianza Lukaku ha fatto molto spesso al di là delle condizioni fisiche panchina a Dzeko Simone Inzaghi forse preferisce un tipo di attaccante diverso Lukaku ha fatto molto bene con Conte all'Inter arrivò infatti lo scudetto con Lautaro composero una coppia d'attacco strepitosa noi speriamo che lo stesso possa ripetersi con Paolo Di Bala forma fisica e acciacchi permettendo per Paolino insomma speriamo che Paolo quest'anno sia un po' più fortunato adesso vediamo venerdì se sarà in grado di recuperare e essere in campo insomma oggi sicuramente è una giornata gioiosa per noi tifosi della Roma che per qualche ora ci fa dimenticare le problematiche che comunque rimangono che abbiamo vissuto in queste prime due giornate dove la squadra sicuramente ha proposto gioco come era inevitabile che fosse contro squadre sulla carta ma anche voglio dire alla fine si riveleranno sicuramente inferiori alla Roma la Roma ha incontrato difficoltà ha portato a casa un punto solo e questo trend logicamente deve essere invertito il prima possibile l'arrivo di Lukaku logicamente a mio modo di vedere sicuramente provocherà la scintilla nell'ambiente sono quei movimenti che mentalmente oltre che tecnicamente arricchiscono una squadra e la motivano e quindi mi aspetto una reazione già col Milan anche se il Milan insomma in palla è una squadra che funziona l'abbiamo visto nonostante alcuni episodi dubbi che mi sono stati riferiti Milan-Torino io non ho avuto modo di vedere una sintesi ampia purtroppo per i miei impegni personali ho visto solo gli highlights però mi parlano insomma di qualche episodio dubbio il Milan-Torino comunque il Milan ha vinto a Bologna ha vinto col Torino ha fatto sei gol e ne ha subito uno solo il Milan sicuramente è l'avversario più difficile in questo momento che ci potesse capitare vista la situazione logicamente col problema che ha Di Bala che non sappiamo se sarà disponibile appunto venerdì sera ricordo insomma sarò allo stadio e vi farò vedere come al solito il pre-match live dalle 20 circa quindi vedremo il riscaldamento insomma e tutta la parte che non si vede in televisione per chi non viene allo stadio quindi seguite il canale come al solito iscrivetevi e attivate la campanella così quando sarò live vi arriverà la notifica e potrete collegarvi e vedere l'atmosfera dell'Olimpico nel pre-match di Roma-Milan e quindi ragazzi ecco oggi sicuramente è una giornata positiva ora la palla però passa al mister mister Murigno al quale io ho mosso qualche critica perché ritengo che a questo punto non possa essere colpa ma le colpe non possano essere più solo esterne errori arbitrali e quant'altro bisogna anche trovare le colpe nella guida tecnica ma sono sicuro che Murigno dall'alto della sua esperienza della sua abilità sappia insomma invertire questo trend negativo di inizio stagione e sappia rimotivare la squadra e riorganizzare la squadra per raggiungere gli obiettivi che adesso li ha tracciati il presidente Dan Fritkin e l'hanno detto l'hanno ripreso parecchi giornalisti parecchi addetti ai lavori Dan Fritkin ha fatto questa operazione però adesso pretende la qualificazione Champions quindi questo mi sembra anche ovvio al di là insomma io ieri sera ci ho scherzato con i miei amici Andrea Fabrizio e Spillo e dicendo che la Roma dopo tre giorni non ha più voluto trattare Sarra perché ormai gli era costata troppo una trasferta di Londra era tre giorni che stavano lì con l'aereo privato e in fretta e furia volevano tornare a Roma però insomma Dan Fritkin sicuramente la società la proprietà si è si è esposta economicamente per accontentare il tecnico e portare questo grande attaccante perché ripeto grande attaccante deve ritrovare la condizione e la fiducia a me io sono convinto che la ritroverà però logicamente dicevo Dan Fritkin adesso vuole i risultati perché adesso non si può più dire insomma che la Roma che gli altri fanno il mercato e la Roma no sicuramente la Roma spende poco spende acquisisce giocatori in maniera intelligente non si espone economicamente non si crea problemi che poi potrebbero vanificare i risultati sportivi perché se tu vai fuori insomma dal fair play finanziario dai paletti che ti impone l'UEFA ti rientro se i bilanci insomma non sono non sono come come concordato e poi rischi ecco di vanificare tutti i risultati che puoi raggiungere nella stagione precedente come i piazzamenti oppure subire sanzioni economiche pesanti quindi sta cercando di operare in maniera intelligente sul mercato perché ripeto questi signori ragazzi l'hanno dimostrato ma lo sappiamo i soldi non mancano hanno investito 800 milioni solo per ripianare tutta la situazione debitoria della Roma tra acquisto appunto aumenti di capitale uscire dalla borsa insomma hanno fatto parecchi investimenti e sono anche sul progetto stadio e forse loro ci sono anche più dentro di quanto ci fosse arrivato pallotta seppur i tempi erano diversi e quindi insomma la proprietà sicuramente non si può rimproverare di non di di non fare in questo momento cose importanti ripetiamo sono tre anni che sono qui dal post pandemia se non sbaglio Murigno Di Bala e Lukaku sono i tre nomi più importanti possiamo anche mettere Wijnaldum Renato Sanchez e possiamo anche mettere Belotti possiamo anche mettere Indica che secondo me è un ragazzo che a breve esploderà uscirà fuori quindi insomma la società si è mossa bene logicamente ha anche ottenuto un successo europeo seppur denigrato da tutti come la Coppa dei Settimini ma è comunque un trofeo europeo e arrivare in fondo e vincerlo poi l'abbiamo visto sulla nostra pelle quest'anno cosa significa noi eravamo terzi in campionato abbiamo messo tutte le energie causa infortuni sull'Europa League siamo arrivati in finale poi un arbitraggio penoso insomma ti rovina tutti i piani e non ti fa vincere un trofeo che vi strameritato e poi soprattutto lo perdi con una squadra scesa dalla Champions cosa che ha detto più volte Murigno che logicamente è poco corretto poi doversi trovare dagli ottavi o quarti in poi a dover giocare con squadre che sono state allestite per disputa coppe superiori importanza superiore è logico che chi scende dalla Champions ha avuto sia a disposizione il denaro per fare la campagna acquisti l'estate precedente e sicuramente appunto ha una squadra a disposizione più competitiva più performante di chi invece si è costruito per cercare di salire in campionato e per competere in Europa League lo sappiamo tutti la differenza enorme che c'è tra la qualificazione in Champions e quella in Europa anche a livello di mercato perché logicamente le entrate da queste qualificazioni sono ampiamente diverse e quindi anche anche le squadre poi vengono allestite in maniera completamente diversa questa cosa finirà e quindi la UEFA insomma su questa cosa indirettamente ha dato ragione a Muregno e ci saranno delle competizioni insomma non ci saranno più queste retrocessioni che avevano poco insomma di regolare a livello di competizione quindi ragazzi adesso dobbiamo aspettare solo la squadra la società ha fatto un altro grande colpo e Muregno adesso tornerà in panchina quindi si farà risentire in campo e questo sarà molto importante per i giocatori sicuramente la sua assenza anche a livello decisionale durante la partita cambio di strategia insomma tutto da tecnologia auricolare eccetera ma in contesto in panchina è un conto stare in un gabbiotto o da casa a dare istruzioni quindi questo sicuramente ci aiuterà e aiuterà la squadra ad affrontare la partita in maniera insomma un po' più più gagliarda quindi vediamo adesso nei prossimi giorni se la società conclude altre operazioni sappiamo gli Oris appunto lo stesso Sar che è stata un'idea in questo weekend a Londra insomma ne hanno parlato sicuramente con il Chelsea però logicamente la trattativa già per Lukaku era complicata e quindi presumo che non si sia andato avanti anche per quello c'erano troppi dettagli da sistemare per Lukaku quindi credo che sia stato quello il problema per cui non si è affrontato anche quel discorso ma ciò non toglie che non si possa riprendere anche a distanza o che magari qualche base è stata gettata e magari nei prossimi giorni si chiuderà ora vediamo il capitolo portiere ci sono gli Oris oggi ho letto addirittura Andanovic ma non credo insomma vediamo gli Oris se alla fine verrà a rinforzare il reparto portieri portiere sicuramente d'esperienza enorme esperienza anche lui abbastanza adulto 37enne se non sbaglio 36enne quindi non proprio più nei migliori anni a livello atletico però sicuramente è un portiere di livello che avere che avere il rosa insomma fa sempre piacere va bene ragazzi io vi saluto sempre forza Roma godiamoci questo momento e aspettiamo fiduciosi venerdì questa partita col Milan che insomma ci dirà tanto su quello sul lavoro insomma che sta facendo la Roma in queste settimane e su che tipo di condizione sta raggiungendo ovviamente Lukaku speriamo di vederlo qualche minuto ma soprattutto speriamo che entri in condizione il prima possibile per dare il suo importante contributo a questa squadra che ad oggi col suo innesto diventa un'ottima squadra e che deve dunque competere per i primi quattro posti in Serie A questo è d'obbligo poi il campo ci dirà se la Roma sarà brava a riuscirci e a mantenere le previsioni che diamo tutti oggi oppure se fallirà questo obiettivo questo ce lo dirà solo il campo ragazzi vi saluto un bacio buona serata forza Roma forza Roma e Lu ciao